Il covid è tornato, anzi in realtà non è mai andato via ed i numeri dei contagi tornano a salire e a stabilirlo il monitoraggio della fondazione Gimbe con dati riferiti alla settimana che va dal 7 al 13 di settembre. Una settimana in cui a livello nazionale i contagi sono saliti da meno di 6.000 a quasi 31.000. Risalita costante anche in Puglia dove nella stessa settimana si è registrato un aumento di nuovi casi pari al 14,4% rispetto alla settimana precedente. Le cose vanno male soprattutto a Lecce e a Bari. Sono le due province con più casi riscontrati mentre l'incremento maggiore si è avuto nella BAT che registra addirittura un più 66%. L'unica provincia dove invece si registra il calo dei contagi è proprio quella di Foggia. In Capitanata i casi di covid sono diminuiti del 7,4%. Ciò che tuttavia viene seguito con attenzione è più che il numero dei contagi e l'occupazione dei posti letto che fortunatamente in Puglia resta ben al di sotto della media nazionale. Il 2,2% in area medica, lo 0,6% nelle terapie intensive. È la sottovariante denominata Eris a farla da padrona, con numeri che tuttavia potrebbero essere sottostimati in virtù dell'abrogazione dell'obbligo di isolamento per i soggetti positivi al covid. Non a caso, come spiegano i numeri del monitoraggio, l'incidenza aumenta con l'alzarsi dell'età. Se di 10 casi su 100.000 abitanti nella fascia 10-19 anni sale a 78 per la fascia 70-89 e ad 83 su 100.000 abitanti per gli over 90, per gli esperti la motivazione è nella maggiore attitudine ai test della popolazione anziana. Tuttavia nessun allarme né preoccupazioni al momento per le ospedalizzazioni. I numeri bassi dei ricoveri in terapia intensiva dimostrano che l'infezione determina problemi seri solo in rare occasioni, anche se l'attenzione deve rimanere alta soprattutto per la popolazione anziana è affetta da patologie.